questa bella paperella che dorme con il suo beccuccio tra le ali stupenda adoro le papere eccoci adesso vediamo anche un bellissimo cigno bianco che prende il sole però prima ci abbiamo un'altra paperella che becca dell'erba altri due che fanno il bagno che stupendo ci sono anche delle bellissime signore anziane con il loro cappellino mi piacciono tantissimo molto rispettose molto amanti della natura tipiche donne inglesi non più giovani che si godono la vita passeggiando in un paradiso terrestre e questa è la cosa più bella che dobbiamo fare godersi gli attimi più belli che la vita ci offre ovunque voi siate ovunque e chiunque vi stia accanto non importa cercate di comunicare anche a distanza ma guardate che bellezza io comunico anche con le papere anche con questo cigno non ci si può avvicinare troppo ma mi piace guardarlo da vicino perché il suo colore così bianco puro mi fa pensare che la natura offre la vera purezza dell'anima e forse noi dobbiamo ancora conoscerla e chissà che questa esperienza che stiamo vivendo non sia veramente così importante da farci avvicinare a questa meraviglia con la nostra purezza che è ancora nascosta ma che ritroveremo molto presto siamo qui per questo grazie a tutti